SRL socio unico, come prendere compenso dalla propria SRL? Ecco qui, potevo formulare meglio la frase, però mi sono fatto una piccola scaletta di cosine che volevo condividere con te. Allora, ovviamente potrebbero esserci anche più classificazioni su come posso prendere un compenso dalla propria SRL, però tendenzialmente ho individuato 5 strumenti che si possono utilizzare per prendersi indirettamente un compenso dalla propria società. Allora, il primo è il compenso d'amministratore, quindi ricordi che quando tu sei un amministratore puoi benissimo prenderti un compenso variabile, lo puoi scegliere te, non ci sono limiti o massimi previsti dal contratto collettivo. La seconda tipologia di compenso che puoi prendere sono praticamente gli utili, ossia puoi prenderti la distribuzione normale degli utili. La terza tipologia che potresti valutare sono le royalties, che le royalties, come probabilmente tu in parte conosci, sono l'opera intellettuale, tipo esempio il marchio, che tu dai sfruttamento economico alla tua SRL e tu ricevi un canone di affitto. Ecco quella roba, praticamente sono royalties e noi cerchiamo come compenitori queste royalties perché sono di fatto uno strumento per ridurre le imposte e contributi in maniera complessiva nella nostra posizione personale. Quindi di fatto il terzo modo con cui tu puoi prendere il compenso dalla tua SRL sono queste royalties, perfetto. Un quarto metodo che praticamente puoi utilizzare per perderti un compenso dalla tua società sono i rimborsi spese. Quindi tu puoi prendere i rimborsi spese, ok, sono di tre tipologie rimborsi forfettari, chilometrici e analitici. Non è l'obiettivo di questo video parlare di questi tre rimborsi spese, però sappi che il rimborso forfettario è quell'importo, diciamo, fisso di 46,48 euro, che può diventare anche 30,98 euro o 15,29 euro, quando tu fai delle trasferte, il nome per conto della società, al di fuori del comune dove hai la sede, perfetto. Oppure c'è il rimborso chilometrico che ti paga in base ai chilometri di percorrenza, fuori dal comune sempre della sede di lavoro, e poi c'è il rimborso analitico, ossia in base praticamente alle spese che tu sostieni quando fai una trasferta, tu puoi di fatto chiedere i soldi in sostanza alla società. E l'ultimo e quinto, diciamo, strumento per prendersi un compenso dalla società sono le prestazioni accessorie. Ho appena fatto un articolo, sto, diciamo, ho appena fatto, insomma, un manuale che sto promuovendo praticamente in questi giorni, se non, diciamo, a stretto giro, se non già anche da domani, ed essenzialmente le prestazioni accessorie sono quelle tipologie di, appunto, prestazioni, cioè, diciamo, operative, no? lavorative, che tu puoi fare praticamente per conto della società e questa cosa è prevista nell'atto costitutivo tendenzialmente. E quindi sono delle cose che tu puoi fare e ricevere un compenso. È ovvio che queste cinque cose che ti ho appena elencato, sia il compenso d'amministratore, la distribuzione degli utili, le royalties, i rimborsi spese, le prestazioni accessorie, che possono fare i soci, sono cose che hanno un diverso grado di pianificazione fiscale, quindi vanno inseriti in un contesto e soprattutto che vanno gestite al meglio in modo che per te siano un vantaggio dal punto di vista fiscale, ok? Quindi per adesso io ho trovato queste tipologie di, diciamo, di compenso che tu puoi prendere con la tua SRL. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo delle SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!